Ed eccoci all'ultima recensione. Questa recensione mi è stata gentilmente richiesta da Sissy Knight. Mi ha fatto molto piacere il fatto che tu mi abbia chiesto una recensione da parte mia, la prima volta che mi richiedono una recensione, quindi spero di essere all'altezza e di poter rispondere a tutte le tue domande. Allora, questa ragazza mi ha chiesto una recensione su un manga, che è esattamente questo, Doll Song, perché si vuole comunque avvicinare al mondo dei manga, non avendo mai letto né uno e varie cose. Allora, il mondo dei manga più che altro è molto vario. I disegni, alcuni dicono che molti manga, io leggo specialmente manga per ragazze, non ho mai letto manga per ragazzi, seinen, manga seimen, non so come si chiamano esattamente il genere, però ho letto esattamente solo manga per ragazze. E come ho già detto prima, alcuni dicono che lo stile di disegno dei manga è molto uguale tra di loro. Non è vero, non è vero, è una cazzata. Non è uguale tra di loro. Io adesso vi faccio vedere tre opere manga che ho a casa, che è Doll Song, della Planet, Fiori del Male, della J-Pop e Non ti posso perdere della Free Books, che ho fatto una fatica per trovarlo, ma l'ho trovato al Torino Comics. Allora, questi tre manga hanno un tratto completamente differente tra di loro. Secondo me il tratto cambia, come in Giappone, da autrice a autrice. Ok? Dalla rivista in cui si è realizzato, il tema che si tratta, cambia tutto. Allora, per prima cosa vi faccio vedere il tratto, le copertine, che come potete vedere, già a prima vista, sono differenti tra di loro. Poi ci sono i disegni che sono differenti tra di loro. La prima che vi faccio vedere è Doll Song, perché, a parte che io questo mambo è bellissimo. Eccolo qua. La prima è questa. Fatto fantastico, eh. Cioè, tutti e tre le opere sono veramente belle, veramente, veramente belle. A me piacciono tantissimo, altrimenti comunque non le avrei comprate. E questa è la prima. Quindi vediamo, abbiamo visto il primo. Il secondo è Il Fiore del Male, della J-Pop. Ah, il primo manga è di Linsan Young. Il primo mambo, che le vedo di questa autrice in Italia. Posso sbagliarmi. Il secondo è di Lee Eun Sok, su Sok, che è di averlo pronunciato giusto. Già nata in Italia per altre opere, sempre pubblicate dalla J-Pop, che sono Rilly. L'altro si chiama, che c'è un'altra? Ah, sì. Love Story, Il Fiore del Male, attualmente la Goen, ha annunciato Savage Garland e Novady Noves. Sì, sempre sue opere. Questa autrice va molto in Italia, eh. Cioè, va davvero tanto. E questi sono comunque i suoi disegni. Poi ci sono anche le tavole a colori, che la J-Pop le ha pubblicate, invece la Panini non le ha pubblicate. Che sono fantastiche. Però su questo mi soffermerò dopo. E infine c'è E-One, che è la mia autrice preferita in tutti i sensi. Cioè, mi piace tantissimo il suo tratto. Alcuni dicono che non è bello. Soprattutto, cioè, piacciono le storie, ma non piacciono i disegni. A me questo tratto piace tantissimo. Perché si stacca dai canoni in un modo assurdo. Cioè, occhi così, labbra. Soprattutto le labbra. A me piacciono tantissimo le labbra in questo che disegna lei. Proprio tanto. Mi piace tantissimo come disegna. E' la mia dea, la mia dea coreana. Chiamiamola così. Infatti, la sua opera che mi piace di più, che è 100% Perfect Girl, non è pubblicata in Italia. È un grande peccato. Perché anche quest'opera ha interrotto, secondo me, se la casa editrice fosse andata avanti. Perché l'ha interrotta non in Corea. Cioè, l'ha interrotto proprio in Italia. Secondo me, se la casa editrice fosse andata avanti, a quest'opera l'avrebbero anche pubblicato. Poi, in questo manga c'è anche molt'azione, colpi di scena, varie cose. Quindi, oh, qui non c'è niente. Sono molto particolari anche questi. Preferisco più il suo tratto di tutte le altre. Quindi, niente. Quindi, da come abbiamo potuto vedere, tre manga che hanno un tratto di stile completamente differente tra di loro. Quindi, se all'inizio vi dicono che i disegni di manga sono tutti uguali tra di loro, non è vero. Ovvio, sono tutti molto spigolosi, hanno colpi molto esili, però, se voi li fate vedere comunque tre opere differenti, potete anche vedere dagli occhi e da varie cose che non sono tutti uguali. Ok? E questa è la prima caratteristica che volevo assolutamente dire. Adesso passiamo alla recensione di Dollsong. Allora, ragazzi, io ho letto tutti i tre volumi usciti in Italia, eh. I quattro volumi usciti in Italia. La serie mi è stata gentilmente regalata, quindi tutti i volumi mi sono stati regalati. Quindi, la cosa che almeno a me ha colpito subito di questa serie sono i disegni e le copertine. Perché, secondo me, una copertina così non può non piacere. Cioè, secondo me attira subito l'occhio una copertina così, è bellissima. E secondo me anche su quello che ha puntato la Panini. Delle copertine veramente belle, colorate, molto aperte, che puntano sui colori come, in questo caso, il rosa, il rosso, poi lo capirete dopo, se lo leggete, bianco. E boh. Quindi, la prima cosa che mi ha colpito di questa serie sono stati le copertine. Allora, sono andata in fumetteria, l'ho sfogliata, l'ho guardata, e c'erano i disegni. E ho guardato i disegni che comunque, come vi ho già fatto vedere prima, sono molto belli. Soprattutto sono tanto dettagliati, molto, molto, molto dettagliati. Infatti, io all'inizio facevo fatica a leggerli. Cioè, a capire. Perché dei manga così dettagliati, o comunque dei manga così dettagliati, non li trovate molto facilmente. Mi ricordo molto la sposa di Abek. Non mi ricordo, non so se l'ho pronunciato giusto. Comunque, sempre quel manga. Che è pubblicato in Italia dalla Flashbook. E quindi sono stata attirata dai disegni. Allora, dato che c'era la disponibilità, me li sono fatti regalare. Allora, di cosa parla questa storia? Allora, all'inizio c'è un incipit di 10-10 pagine. No, di 10 pagine. Di 5-6 pagine. E che fa un incipit iniziale della storia, e poi la storia, diciamo, inizia da sé. Io ho letto il primo volume e non ci avevo capito niente. Allora ho detto, boh, non lo leggo più. Ed è infatti così, perché ci sono molte persone che vendono il primo volume. Perché hanno letto il primo volume e non ci hanno capito niente. O comunque la storia non gli è piaciuta. Ed è male. Perché proseguendo con il secondo volume, e io, vi giuro, mi sono letta oggi, in mezz'ora, mi sono letta tutto il terzo volume. E non è piccolo il terzo volume. E non è una cazzatina. Proprio tu, quando cominci a leggerlo, ti prende tanto. Allora, di cosa parla questa trama? Io non riesco a spiegarla molto bene. Quindi preferisco leggervela e poi trarre bene le conclusioni. Quindi, dov'è il secondo volume? Che vi leggo già una parte. Allora, di protagonista c'è questa Madame Gella, che è stata ritrovata ai piedi di un albero di maesil. Credo di averlo pronunciato giusto, prima di memoria. Il padre non la lascia uscire di casa, se non durante la luna nuova. Splendida come un fiore, in occasione di una rara visita al villaggio, la giovane protagonista, a scopo di non essere un comune umano. Vaghi ricordi si mescolano i sentimenti contrastanti che prova un misterioso uomo vestito di nero. Chi è costui? Cosa succederà fra 15 giorni alla base della bella buoi? Ok, vi ho letto la trama. Quindi questa è la trama grandiline. non riuscivo a spiegarla perché a parte i nomi, che ha venuto anche dire i vari nomi e tutto. Quindi è questa la trama grandiline. La cosa più che altro che si mescola è che in questa storia ci sono umani e non umani. gli umani sono sfortunatamente noi umani moriamo, non viviamo in eterno, però esistono anche i non umani che vivono sotto forma di spirito o comunque hanno altre sembianze. I non umani possono vivere in eterno e possono avere tutto. Ma c'è solo una cosa che non riescono ad avere e che comunque sono stati privati e vorrebbero provare a tutti i costi e dell'amore. Ci sono persone non umani che si sacrificano per diventare umani, per provare l'amore e altri invece no. Quindi questa è una storia molto drammatica. Ma non è scontata, non è quel drammatico pesante delle solite storielline. No, infatti qui si mescola morte e amore per mantenere i propri segreti, cosa si farebbe per il proprio amato. È una storia abbastanza cruda che bisogna leggere bene. Quando si legge il secondo volume all'inizio si hanno le idee poco confuse. Quindi dovete rileggervi meglio il primo volume perché non dovete leggerla in modo superficiale, dovete leggerla bene. Quindi assolutamente non è una lettura leggera. È molto drammatica e dovete leggerla bene, dovete essere, diciamo, concentrati perché c'è il rischio che leggete una cosa di sfuggita e vi perdete tutto il segno. In questa storia ci sono vari protagonisti che, diciamo, agiscono per la Madame Gella Wuoi che lei non è una persona normale come tutte le altre. Lei, questa ragazza, ha una particolarità che non vi voglio svelare. Vi dico solo, guardate il titolo, Doll Song, quindi la canzone della bambola. Quindi c'è un motivo perché si chiama la canzone della bambola, cioè dovete proprio leggerlo bene. Ripeto, se leggete il primo volume e vi fermate non capite niente perché fate il rischio di tante altre persone. Io adesso devo leggere il quarto volume e quest'autunno dovrebbe uscire l'ultimo volume in Italia che è la serie già conclusa. E niente, questa qui comunque è la trama Grandi Line, Grandi Cose che io assolutamente consiglio. È una lettura veramente bella che a me è piaciuta tanto. Non mi aspettavo un mambo del genere. È veramente profondo che tratta tematiche comunque profonde. Quindi, poi i disegni, ragazzi, dai. I disegni parlano da soli. Secondo in qua trovate dei disegni così belli, così espliciti, espliciti non in quel senso, eh. Veramente fantastici. E vi dico solo che comunque da questo albero di Maesil è iniziato tutto. Poi piano piano, leggendola, potete anche capire. Poi a me piace il biondo. Io sono amante di biondi, quindi... Veramente bella. Quindi, ragazzi, se cercate un mambo, leggetevelo. Però, unica pecca, oddio, sto raggiungendo i 15 minuti, è il prezzo e l'edizione. Io ce l'ho con la panini. Panini, fate un'edizione che possa piacere anche a me, dannazione. Costa 5,90. L'edizione non è che è brutta, però, le pagine a colori. Questo mango è bellissimo. Cioè, renderlo in bianco e nero. Mettere le pagine in bianco e nero non rende. Cioè, io guardo, questo della J-Pop è lo stesso prezzo, però due paginette a colori ce le hanno messe. No, la pagina a colori fa la sua porca figura, eh. Quindi, beh, questa edizione non ci sono, le pagine a colori, però, secondo me, non c'erano neanche nella versione originale, perché proprio le tavole sono tutte in bianco e nero. Quindi, qui non ho niente da contestare. Però, questo mango si basa tanto sui colori. È tutto portante sul bianco e sul rosso, sul bianco e sul rosso, che, secondo me, vengono negati. Però, magari, è uno dei primi mango che la panini pubblica, varie cose, quindi, diciamo, che gliela posso perdonare. Però, sono felice che abbiano portato quest'opera in Italia. Quindi, la mia recensione è finita. Ho finito le varie recensioni che dovevo fare. Spero che, sissi, questa recensione sia stata di tuo aiuto, sui mango in generale, su quest'opera. Se vuoi altre recensioni, fatemi sapere. Se voi altri avete recensioni da chiedermi, fatemi sapere. Io esaudirò, diciamo, la vostra richiesta. Nel tempo che mi sarà possibile, perché, tra varie cose, impegni, sono un po' impegnata. Però, quest'estate ci sono. Quindi, chiedetemi tutto quello che volete. Tanto c'è la mia video collezione. Se avete delle domande riguardo ai manga che ho, già, è perfetto. Bene, ho finito tutto quello che dovevo dire. Ripeto, se avete domande fatemi sapere. Da Seguachano è tutto. Un bacio. Buona giornata.